Nell'albergo, hotel Armada, qualità, non ha prezzo, giusto? Il momento è storico, sto per aprire dopo 20 piani, forse 25 piani, vedo tensione sui vostri volti Si è aperta, non si apre, cazzo non si apre veramente, attenzione, si apre verso il fuori Si sale ancora ragazzi, attenzione alla testa, non fate cadere i bagagli Mazzetto spingeva, era da tirare